Buongiorno, mi spiace non essere con voi all'Assemblea di Assemblea di Lance, ringrazio il Presidente Dettori e tutti voi, ma in questi giorni sono in missione a Tokyo per promuovere la nostra città in una delle grandi fiere turistiche del mondo, ma veniamo comunque a noi. Noi stiamo facendo uno sforzo e lo sforzo è cercare di affrontare i nodi fondamentali per lo sviluppo della città nel breve, nel medio, nel lungo e anche nel lunghissimo termine. Da qua per esempio il Patto per Milano che vuol dire investimenti in infrastruttura e con una modalità diversa dal passato. Portiamo le metropolitane fuori Milano, la portiamo a Monza o lo portiamo in quartieri per esempio Baggio che si sono inurbati. Da qua la volontà di essere rapidi e di recuperare il tempo sugli scale ferroviari, di immaginare sistemi di mobilità diversi. Da qui anche, e credo sia molto importante, l'istituzione di un assessorato all'innovazione tecnologica e la richiesta alla Direzione Generale del Comune di Milano di rivedere la macchina comunale in un'ottica più in linea con i tempi, che soddisfi le esigenze di una città che corre, che soddisfi le esigenze di realtà come la vostra. E da qua anche la promozione turistica di Milano. Ora, Milano è in un momento positivo ma vuol diventare qualcosa di diverso, vuole collocarsi su standard internazionali, vuole poter portare a casa ancor di più dallo sforzo che è stato fatto in questi anni. Ecco, il patto che vi propongo è poi il seguente. Noi cerchiamo di essere molto trasparenti nelle nostre politiche, cerchiamo di pianificare in maniera tale che ci sia uno sguardo avanti, chiediamo ai nostri partner come voi di identificare quei perimetri, quelle realtà in cui è possibile costruire una collaborazione e da lì in poi lavorare assieme. Chiudo dicendo, noi riteniamo che tutto ciò debba essere fatto da qua a fine anno, diciamo, che tutto quello che noi faremo in cinque anni, posto che cinque anni volano, deve essere definito entro quest'anno, per poi lasciare lo spazio alla costruzione operativa del tutto. Quindi abbiamo urgenza di confrontarci, abbiamo urgenza di farvi partecipe ancor più in dettaglio delle cose da fare, chiediamo uguale rapidità, perché credo che ci sia un elemento fondamentale nella mia visione personale, che ho sempre sottolineato nel corso di tutte le cose che ho fatto, e cioè la collaborazione tra pubblico e privato è l'unica risposta possibile per lo sviluppo delle grandi città, in particolare in una città come Milano. A presto quindi!